forza facciamo esercizio forza con l'attività su ragazzi che cosa aspettiamo dai muoviamo il corpo con un ritmo nuovo guarda ciò che faccio e fallo pure tu muoviti con me e non pensarci su ronziamo come un'ape agitando le braccia come un'ape puoi ronzare ronziamo come un'ape fingendo di volare come un'ape puoi ronzare forza facciamo esercizio forza con l'attività facciamo le ranocchie rimbalzando sulle gambe come le rane puoi saltare facciamo un grande balzo per saltare in alto come le rane puoi saltare forza facciamo esercizio forza con l'attività e adesso siamo stelle quindi andiamo su fin lassù oltre il blu qui siamo tutte stelle luminose e belle fin lassù oltre il blu ehi ragazzi siete stati bravi e grazie agli esercizi adesso siete forti ora sarà chiaro che l'allenamento è importante in fondo è un gran divertimento ci esercitiamo anche qui alla fattoria di Lello B l'allia 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 B